ciao a tutti da trattino le origini di israeli trattino questo è il video numero 7 credo si credo proprio di sì in cui nei scorsi nello scorso video abbiamo venduto gli ovetich come vedete qui dalla notizia e abbiamo comprato chamberlain e tedio ora dobbiamo giocare la prima partita di campionato contro l'udinese andiamo subito a giocare perché sennò non ce la facciamo in tempo con il tempo giusto scusate per il gioco di parole andiamo a gestire la nostra squadra questa è la formazione titolare anche se come attacco abbiamo la maudi che non è proprio il massimo però proviamo anche zuma oggi dal posto di gonzalo si avete capito al posto di gonzalo così vediamo anche un po' la formazione iniziamo ecco qui ragazzi ma voglio dirvi non credo che non riuscirete a sentire la telecronaca perché ho perché ho ho disattivato la voce se non sbaglio e ho abbassato la voce non l'ho disattivata se stai attenti la sentite leggermente perché l'ho messa a 1 la sentite no non la sentite sicuramente vabbè iniziamo a giocare spero che non mi la dico sì non darmi fastidio nel gioco attenzione grande neto ragazzi ecco perché uso neto ragazzi non gioco da moltissimo tempo cioè dico nel senso a fifa dall'ultimo video che ho fatto non gioco a fifa no buonissimo dai no bella no padelli salva la partita borgio valero prova il tiro dai dai che ce la togli la qua bellissimo no però dopo non perdono no 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 meno male ragazzi è forte la fiera in giro è tutto vero no non facciamo girare benati a no di natale diritto di natale sei un vecchio perchè vuoi segnare contro di me no ci vorrebbe davvero un attaccante di mese quello che ci manca bellissimo roncaglia grande ragazzi ci sono buchi dappertutto cioè nel senso in campo eh non sto non voglio fare doppi sensi ok ora che l'ho detto sembra un doppio senso ooooh siamo già al ventesimo ragazzi questi tagli grande neto ragazzi già la seconda volta che ci salva zuma sta facendo guai lì in mezzo e la maudi no qua guilani viene bloccato ovviamente sennò era un gran gol sono sicuro che sarebbe entrata ragazzi la difesa perde acqua da tutte le parti nooo ci hanno segnato e chi ci ha segnato Raneji boh ragazzi perdiamo acqua da tutte le parti con questa difesa mmmm PASQUALE Maurizio Domizzi perdono palla bellissima per te teggio grandino boh ciavalero la rete la rete grande vediamola che gol ragazzi di prima tutto di prima ragazzi è equilibrata diciamo la partita anche se l'Udinese ha avuto molte più occasioni qualche miracolo di neto di nuovo per lui Draxler Borgia Valero è partito nooo Lazzari lo ferma fermato da Lazzari addirittura è l'ormato credo che sia Fernandez per lui poteva essere buona poteva abbiamo sbagliato dovevamo provare il tiro credo Raneji nooo Muriel prende la traversa ragazzi siamo stati fortunati bellissimo però dovevamo cercare di concretizzare chamber line il tiro grande grande acquisto ragazzi dopo che ha fatto questo si va a prendere il pallone e dice tutti a casa rivediamo l'azione anche se ha recuperato palla in modo perfetto diciamo in mezzo a 3 grande chamber line chamber line non so come si pronunci bene però siamo sul 2 a 1 e poi l'ha piazzata all'angolino dove il portiere non poteva arrivare eccola passiamola è buona vai chamber no finisce il primo tempo qui ragazzi non so se la voi vedete a laggare il gioco ma mi lagga moltissimo spero che voi laghi meno nel video perchè se no devo vedere come fare per non farlo laggare così tanto Draxler nooo non ricordo non so se avete visto la serie precedente ma Draxler l'avevamo acquistato anche lì è un mio acquisto abitudinario perchè è forte però nella vecchia serie giocammo contro il Manchester United un amichevole e questo il tiro no Aquilani e questo fece una doppietta dopo che il Manchester United segnò per primo stessa cosa che credo che succederà oggi con Chamberlain ehm Chamberlain è stato sempre il mio punto fisso ehm da voler comprare ma non l'ho comprato quindi questa è la prima volta che lo compro con una squadra come la Fiorentina quindi se ne va qua no ah l'albero che si mette in mezzo ehm quindi credo che lo comprerò più spesso quando farà una nuova carriera credo Chamberlain mi sembra un buon giocatore per quello che ha fatto adesso attenzione Neto no no ragazzi però c'è un gran minacolo di Neto per quello che ha fatto spettacolare assist del compagno che l'ho messo in colligione di segnale grande assist e grande finalizzazione ragazzi 2 a 2 la partita è combattuta ahhh Borgia Valero tutto sommato sta giocando bene abbiamo venduto come mi ricordo anche Giuseppe Rossi doveva essere un valido di Nudo ma dato che abbiamo comprato Teggio dove vai? c'è Tomovic grande Borgia Valero spazza no attenzione è fuori gioco era fuori gioco nooo ragazzi di natale i gol avversari non li voglio nemmeno vedere ahhh vai Teggio nooo Benatia ci ferma aquilani il gol e ci riportiamo in parità ragazzi 3 e 3 bellissimo al 69esimo 3 6 gol scusate 3 per parte vai giochiamola questa palla nooo siamo sempre centrocampo c'è un equilibrio assoluto però in attacco la difesa perde acqua cosa è successo? fallo nooo a proposito dobbiamo fare un cambio effettuiamo un cambio in difesa togliamo Zuma e mettiamo Gonzalo ehhh invece a destra togliamo Fernandez e mettiamo Wolski anzi facciamo così togliamo Drax e le mettiamo Wolski a posto di Drax le mettiamo Fernandez poi facciamo entrare Romulo al posto di Chamberlain e andiamo a posto cioè come questo è un'unice cambio che facciamo veloce Zuma non mi sei piaciuto questa partita anche se potevi fare di meglio sicuramente vediamo Gonzalo ora cosa fa spero che non segni eh meno male credo che di Natale abbia tirato la posizione giusto? dai ragazzi un 4 a 3 lo voglio non voglio un pareggio a inizio campionato dai 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 no no di testa perchè hai tirato dai muoviti questo portiere di imbarbito pericolo pericolo muo- ragazzi ragazzi nooo questo è gol me lo sento eh lo sapevo io sto Ranece ci ha fatto più gol lui mamma mia potevamo fare di meglio ragazzi secondo me questa finisce qui questa partita non facciamo nessun altro tipo di gol Romulo nooo ragazzi era una buona azione tira Romulo è il nuovo entrato 4 a 4 ragazzi 8 gol 4 per parte bellissimo bellissima partita ragazzi l'Udinese è molto forte credo perchè sto facendo fatica ad andare in vantaggio per primo però spero siamo andati in vantaggio solo due volte credo ci sta non vorrei prendere ecco ragazzi ora segniamo me lo sento ora segniamo nooo non puoi finirmi adesso su un contropiede vabbè 4 a 4 la partita è terminata il migliore in campo è stata Elamaldi le reti sono state segnate Borja Valera Aquilani Romulo e Chamberlain a sinistra dei sostituti il migliore in campo è stato Elamaldi secondo Aquilani terzo Borja Valera che sono al stesso voto e il voto più basso dopo essere Dan Gonzalo prima cosa perchè entra il secondo tempo ma se vediamo quelle entrate in primo tempo abbiamo 5.9 di zoom ragazzi questo video è terminato ci vediamo nel prossimo video da trattino Luigi23 è tutto spero che la partita vi sia piaciuta alla prossima grazie